amiche amici di ciclo web prima di occuparmi della volta oggi voglio dedicare un pensiero a una ragazza che è una mia beniamina e in questi anni ho scritto tanto di lei e l'ho seguita con grande affetto con grande attenzione e ammirazione si tratta di christina vogel che pistar tedesca 27enne quindi molto giovane ancora qualche mese fa a giugno rimasta vittima di un grave incidente in allenamento al velodromo di kotbus in germania e purtroppo le conseguenze di questo incidente sono molto serie e oggi è uscita l'ufficialità in un'intervista in cui lei stessa parla è uscita la conferma più che l'ufficialità del fatto che purtroppo la ragazza è rimasta paraplegica e tale resterà io ora non voglio rischiare di usare termini fuori luogo mi vedi di parlarne al passato perché so che non sarà più una sportiva quindi non incendierà più i velodromi però lei quando entrava in pista era veramente un raggio di sole illuminava tutto sprigionava una potenza incredibile fortissima non basterebbe il tempo di questa di questa rubrica per elencare il suo palmareste però più di questo mi colpiva a me e a tanti altri appassionati la sua umanità perché emergeva sempre quest'umanità in tutte le situazioni aveva un sorriso a un sorriso che diamine un sorriso che insomma riempiva il cuore bucava lo schermo le permetteva di sdrammatizzare qualsiasi situazione anche le sconfitte e niente grandissima veramente mi manca e continuerà a mancarmi nei velodromi le sono vicino con tutto il cuore nelle nell'intervista che oggi riportavamo sul ciclo web lei dice delle cose anche molto toccanti dice purtroppo questa condizione non muterà più non camminerò più prima ne prendo atto in maniera compiuta meglio sarà meglio riuscirò a gestire il tutto gestire questa condizione veramente un grande in bocca al lupo a cristina davvero con tutto il cuore allora veniamo a parlare di vuelta allora oggi ha vinto oscar rodriguez giovane spagnolo 23enne in fuga arriva dall'ennesima fuga al traguardo poi nel finale sull'arrivo di la camperona la camperona è un nome che mi riporta la mente i personaggi di fellini dopo la gradisca la tabaccaia la saraghina ecco la camperona ora immaginate voi che tipo di personaggio avrebbe potuto essere facile ricamare allora dicevo abbiamo visto l'attacco nel finale tra i big di classifica due gemelli uno è il gemello di adam yates simon che abbiamo tutti imparato a conoscere benissimo all'ultimo giro d'italia e che stiamo vedendo ancora sugli scudi alla vuelta e l'altro è il gemello del quintana pessimo che abbiamo visto in questo ultimo anno e mezzo ovvero il vero quintana finalmente era dal block house al giro 2017 che non vedevamo nairo quintana ma aveva mandato in giro per il mondo appunto il suo gemello riuscito male e oggi finalmente quintana ha battuto un colpo non lo vedevamo così convinto e così efficace in salita da appunto da un anno e mezzo e oggi ha staccato tutti i rivali certo parliamo di pochi secondi perché l'arrivo era poca cosa durissimo però per un paio di chilometri era giusto un muro ha preceduto di 6 secondi yates di 9 secondi mass di 17 valverde pinot 20 secondi michel angel lopez 25 kelderman della cruz kraus ve curan 40 gallopene e così via aru è stato staccato di 54 secondi ne parliamo dopo e la maglia rossa che è su serrada di 1 e 46 ora io a errada oggi attribuivo ipoteticamente un ritardo di un minuto massimo minuto e venti da dagli altri big invece ha pagato forse una trentina di secondi in più rispetto a quintana va bene poco male in ogni caso questo fatto lo aiuterà domani a trovare il coraggio di andare in fuga e quindi in osseguo a quanto gli suggerivo ieri avrà la possibilità di re incrementare il suo vantaggio se la fuga arriverà in porto in quel di nava che vada in fuga senza senza tanti problemi allora in classifica comunque la situazione resta molto fluida c'è yates che il primo diciamo dei big alle spalle di errata 1 e 42 da errata e poi nel giro di un minuto ci sono una decina di corritori quindi bene o male sono tutti lì qualcuno ha perso terreno oggi george bennett qualcuno risale della cruz kelderman pino è risalito però è a due minuti e mezzo più o meno in zona aru allora aru io non so cosa cosa possiamo dire di aru sinceramente fin qui avevamo sospeso il giudizio però adesso siamo alla tredicesima tappa alla vigilia di due tappe molto dure due tra le più importanti di questa volta e non si vede veramente la fine del tunnel non si vede proprio la luce con quella luce che si è spenta al giro eppure questo corridore che ancora un anno fa al tour de france bastonava tutti i più forti del mondo alla plage de beffy che è un arrivo non tanto diverso da quello di oggi da quello della camperona che è successo a darlo ha sbagliato la preparazione ha toppato alla grande in pieno il giro d'italia ma poi ha avuto di nuovo due mesi per riposare per recuperare per riprogrammare un finale di stagione all'altezza della della sua fama diciamo delle sue possibilità invece lo ritroviamo come nome al giro balbetta non va bene soffre cambi di ritmo e non so non so come potrà finire questa sua volta speriamo sempre che trovi un guizzo ma col passare dei giorni io ci credo sempre meno va bene la chiudo qui questa giornata un po malinconica vi saluto ci vediamo domani con un'altra svueltina ciao da ciclo web